L'assessore all'attività commerciale Bruno Zille commenta le finalità dell'incontro che si terrà lunedì 22 ottobre alle 14 nella sala giunta del comune di Pordenone, indetto per affrontare le tematiche di carattere urbanistico e commerciale di Viale Marconi. Abbiamo pensato di invitare oltre che i residenti anche gli operatori economici, i proprietari e gli amministratori di condominio di Viale Marconi. Riteniamo che un'azione congiunta assieme all'amministrazione comunale e ai privati si possa ovviamente raggiungere quel decoro importante e utile per poter rilanciare quell'area. E' chiaro che questa operazione non si ferma lì, l'amministrazione ha in animo di dare risposte e sarà prossima anche l'apertura del nuovo parcheggio di Via Vallona che sicuramente potrà dare alcuni servizi utili per poter rilanciare. E' chiaro che ciò passa anche attraverso il decoro e quindi l'iniziativa mia personale è quella di coinvolgere i proprietari per la pulizia delle vetrine, per la manutenzione delle vetrine ma soprattutto dei porticati che sono sporchi. Il problema delle vetrine sfitte del resto non è solo un problema di Viale Marconi ma è anche un problema che riguarda altre parti della città. Nell'intenzione dell'amministrazione chiaramente è proviamo di sperimentare questa iniziativa in collaborazione con i privati perché poi possiamo estenderla anche al resto della città. Chissà che in questo modo non riusciamo a dare quella pulita, quel lustro necessario per rilanciare l'attrattività ma anche l'aspetto economico della città di Pordenone. All'incontro interverranno anche il sindaco Claudio Pedrotti, gli assessori ai lavori pubblici Renzo Mazzer, alla polizia municipale Flavio Moro, all'ambiente Nicola Conficoni e al commercio Bruno Zille che ha promosso e coordina l'iniziativa.